bellezze al bagno grazie per le bellezze cosa ne pensi Carlo? è una delle cose più belle della vita cosa vuoi? da bere fresco ricarduro, mangio vicino a me vicino a Pintello un compagno di scuola il puccetto, avevi perso il puccetto? hai ritrovato il puccetto? ah che bello ce ne due piedi però eh molto belle venature prominenti ma il più bello è Pierangelo è di origine il più bello è Pierangelo dalla roccia